Ben trovati all'ascolto del nostro telegiornale Oggi Santo Stefano, quindi siamo nel pieno delle festività natalizie, ma sono stati numerosi i poveri che si sono rivolti alle menze della Caritas Diocesana. Don Tarascio, infatti, tra i poveri e molti siracusani. Vediamo di più. Oggi è il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, quindi è trascorso il Natale, è trascorsa la vigilia. Quanti sono stati i poveri che si sono rivolti alle menze della Caritas Diocesana? Considera che c'è la presenza solamente attualmente di una menza, perché una menza è stata chiusa e l'apertura sarà stata molto difficile, perché la morte di padre Paolo Mangiagli ci ha presi tutti alla sprovvista, la morte improvvisa, e quindi ha creato un po' di disagio alla menza del Pantheon. Ma nonostante questo, tutto quello che noi facciamo non è solamente un problema di menza, perché tante volte c'è stata una distribuzione continua da parte di tutte le parrocchie presenti sul territorio di Siracusa e sul territorio di Ocesano per un sostegno più concreto alle famiglie. Quest'anno c'è stato il fenomeno anche di alcune persone che hanno preparato dei pranzi per delle famiglie in particolare, portandoli a casa e dando loro da mangiare dentro casa, senza così la difficoltà di di dover uscire per andare alla menza, ma all'interno della propria famiglia. Facciamo una sorta di identikit pur rispettando la privacy di chi si rivolge alle menze? Sono italiani? Sono stranieri? Di chi si tratta? Il 90% sono i nostri concittadini che sono in gravi difficoltà per mancanza di lavoro, per mancanza di sostegni economici, per difficoltà nella casa, considerando che anche qui noi a Casa Caritas abbiamo 10 utenti homeless che vivevano per strada, a Casa Sarri Abramo ce n'ha 27 che vivono per strada, la maggior parte sono tutti italiani. Chi volesse entrare a far parte di questa grande famiglia che è la Caritas di Cesana come volontario, cosa deve fare? Semplicemente rivolgersi a noi e noi li formeremo una minima formazione per comprendere cos'è Caritas e fare volontariato all'interno delle nostre strutture. Noi abbiamo Casa Caritas, Casa Sarri Abramo, la mensa di San Martino, la mensa del Pantheon che speriamo al più presto potrà essere operativa con l'arrivo e l'avvento del nuovo parroco e poi tutte le strutture diocesane che si occupano di sostenere i nostri fratelli che sono più in bisogno. Torniamo a parlare del corpo della Santa Patrona di Siracusa, parliamo appunto del corpo di Santa Lucia perché sono tantissimi i siracusani che chiedono che il corpo della Santa Patrona torni a Siracusa. Vediamo il servizio. Durante la processione di Santa Lucia per l'ottava trasmessa in diretta sulle nostre reti televisive sul profilo Facebook di Tris, i telespettatori e i fedeli siracusani non hanno reperto il dibattito sul tema che riguarda il ritorno delle spoglie di Santa Lucia a Siracusa. Una richiesta pressante, accurata e anche motivata, quella dei nostri telespettatori che con oltre 35.000 visualizzazioni e più di 1.300 commenti hanno voluto testimoniare la fede e la devozione verso la martire siracusana venerata in tutto il mondo. La questione è stata più volte dibattuta tanto dall'attuale patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, quanto dall'arcivesco di Siracusa, Salvatore Mappalardo. Le due diocesi da tempo hanno trovato una sintesi d'accordo secondo il quale le spoglie di Santa Lucia devono arrivare nella città di Siracusa ogni dieci anni. Anche l'attuale rettore del santuario di Santa Lucia a Venezia, Don Gian Matteo Caputo, in una sua recente dichiarazione, rese in occasione dell'inondazione del mese di novembre scorso, ha ribadito i termini degli accordi a suo tempo intercorsi fra la chiesa siracusana e quella lagunare. I siracusani fedeli di Santa Lucia, come affermato e rimarcato sul profilo social di Tris Siracusa, ritengono invece che si tratti di una vera e propria ingiustizia. Le spoglie di Lucia devono tornare a essere custodite nella nostra città. In passato sono state raccolte firme, organizzate petizioni, Ci sono stati gli appelli della politica alle autorità ecclesiastiche, ma l'unica concreta apertura fu ottenuta dall'allora arcivesco di Siracusa, Monsignor Giuseppe Costanzo, oggi emerito, che ottenne l'arrivo delle spoglie per ogni decennio. Da Venezia giunge notizia che il corpo di Santa Lucia, nella tarda e primavera del 2020, saranno portate ad Atene, in Grecia, mentre nel 2021 è previsto un ulteriore viaggio nel nord dell'Europa, e precisamente Svezia, nella sua capitale, Stoccolma, dove il culto di Lucia si è ormai affermato da parecchi anni, così come testimoniano gli scambi culturali e religiosi fra la città di Siracusa e la nazione scandinava. Parliamo adesso di un piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, aumento degli autobus ecologici per quanto riguarda comuni e regioni. Via libera quindi al decreto del Ministero dei Trasporti. Vediamo. La conferenza unificata Stato-Regioni ha dato il via libera al decreto del Ministero dei Trasporti per la ripartizione dei fondi per il finanziamento del piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Regioni e comuni italiani potranno così aumentare la presenza di autobus ecologici sulle loro strade, provvedendo al rinnovo del parco autobus esistente. Sono stati stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 per l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto pubblico locale e relative infrastrutture. Alla Sicilia sono stati assegnati poco più di 142 milioni di euro spalmati dal 2020 al 2033. Ogni anno la Regione potrà contare su 9,6 milioni vincolati all'intervento che vuole migliorare lo standard qualitativo e tecnologico del parco mezzi pubblici con un occhio particolare all'elettrico e dalle infrastrutture di mobilità sostenibile. A darne notizia è il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Paolo Ficara, componente della Commissione Trasporti della Camera. Sono 2,2 i miliardi stanziati con il decreto di riparto. Di questi, 754 milioni sono destinati alle Regioni del Mezzogiorno rispettando la clausola del 34% di investimenti al Sud. A questa prima ripartizione destinata alle Regioni si aggiungerà un altro miliardo e mezzo rivolto direttamente a Comuni e città metropolitane. La nostra idea di futuro, dichiara Paolo Ficara, prevede una riduzione generale dei mezzi privati e la sostituzione di quelli più inquinanti con altri ad alimentazione alternativa. Per fare questo bisogna investire risorse nel trasporto pubblico e nello specifico in mezzi sostenibili e più efficienti. In questo modo, continua, sarà più facile favorire i cittadini nella scelta di lasciare la propria auto e usare modalità alternative. Ecco perché, anche nella legge di bilancio, abbiamo previsto l'obbligo dal 1 gennaio 2020 per tutti gli enti pubblici che devono rinnovare il parco mezzi di acquistare o noleggiare almeno il 50% di nuovi veicoli ad energia elettrica o ibrida o altrimenti a idrogeno, conclude il parlamentare siracusano Paolo Ficara. Parliamo adesso sempre di clima natalizio, ma portato tra le stanze dell'ospedale di Lentini. Vediamo. Clima natalizio anche tra i reparti dell'ospedale di Lentini, dove Babbo Natale e una schiera di volontari dell'Associazione Metapiccola hanno portato momenti di gioia e di allegria tra i pazienti ricoverati, intonando canti natalizi e consegnando ad ognuno di loro piccoli doni offerti dal club service Archeoclub di Lentini. L'iniziativa Natale in Corsia rientra in un programma più ampio di manifestazioni promosso dall'Unità Operativa Informazione e Comunicazione dell'Aspe di Siracusa, diretta da Dalgisa Cucè e curato dalla referente Urpe di Lentini Eliana Lofaro. Le iniziative proseguiranno con Tombola che è ospedale, programmata per domani 27 dicembre in orario pomeridiano, con una Tombola in filo di fusione che coinvolgerà tutti i decendi dell'ospedale, sia allettati sia deambulati e le loro famiglie. I premi saranno donati dall'Associazione Culturale Rinascita Leontina di Lentini e saranno consegnati dai volontari direttamente agli utenti nelle loro stanze di degenza. Seguirà la Befana in ospedale, programmata per il 6 gennario, sempre di pomeriggio, con una Befana che consegnerà ad ogni piccolo degente ricoverato nel reparto di pediatria, un giocattolo offerto dall'Associazione Sempre Rinascita Leontina. Sono previsti anche interventi di animazione, trucca, bimbi e sculture di palloncini. Nelle giornate programmate per il 25 gennaio, 29 febbraio e 28 marzo 2020 sono previsti eventi teatrali e musicali nella sala conferenze dell'ospedale con artisti che offriranno la loro partecipazione gratuita. Il ricovero in ospedale, spiega Dalgisa Cucè, è per tutti un momento critico e fonte di ansia per il paziente e per i familiari. Il rapporto con il mondo esterno e le relazioni sociali vengono ridotti e si ha un abbassamento della qualità della vita. L'aumento di questa consapevolezza stimola la ricerca di interventi mirati verso una umanizzazione dell'ospedale, che passa anche attraverso l'organizzazione di attività ricreative e sociali, con il supporto di volontari adeguatamente formati e attraverso la creazione di una rete che garantisca la continuità e l'integrazione tra ospedale e territorio. L'ospedale di Lentini non è nuovo a tali iniziative, in quanto sin dalla sua apertura i volontari dell'Associazione di Volontariato Meta Piccola del progetto SOS dell'ASPE di Siracusa accolgono all'ingresso dell'ospedale gli utenti che giornalmente vi si recano. Sempre grazie alla loro inventiva e al loro impegno giornaliere vengono organizzati numerosi eventi all'interno dell'ospedale che coinvolgono sia gli utenti e i degenti che i loro familiari. Durante la manifestazione natalizia i degenti che saranno in condizione di allontanarsi dalla propria stanza saranno accompagnati dai volontari degli ambienti, dove gli stessi svolgono e assistono i pazienti, saranno accompagnati presso i parenti. I familiari potranno partecipare a tutte le attività ricreative e natalizie programmate all'ospedale di Lentini. Restiamo sempre in tema di sanità, ma parliamo del tumore al polmone che resta ancora una neoplasia molto frequente, che in Sicilia conta più di 2.000 nuovi casi l'anno, spesso diagnosticati in fase già avanzata. Vediamo. Sono tante oggi le cure disponibili per trattare il tumore al polmone che resta una neoplasia molto frequente. Cura in modo personalizzato dalla chimoterapia alle terapie a target, cioè a bersaglio molecolare e alla immunoterapia, mentre all'orizzonte ci sono innovative terapie di combinazione. Un aggiornamento in merito è stato dato durante il convegno Innovazione e Sostenibilità nel carcinoma polmonare, confronto tra gli esperti organizzato da Motore Sanità che ha visto la partecipazione delle istituzioni, dei clinici e della situazione dei pazienti. Ci sono tante alternative di trattamento in questo momento in grado di cronicizzare la malattia e di rendere un paziente lungo sopravvivente. È necessario personalizzare il trattamento per individuare il trattamento migliore, la immunoterapia, la chimoterapia e la terapia a bersaglio molecolare. In questo momento posso beneficiare alla diagnosi con la immunoterapia i pazienti che sono altamente sensibili a questo trattamento, cioè quelli che presentano una proteina che li rende sensibili proprio a questa metodica, a questo tipo di farmaco. Generalmente quando si presenta questa proteina espressa nel 50% delle cellule tumorali allora si può dare la immunoterapia come primo trattamento anziché la chemioterapia. L'evolversi delle conoscenze sta infatti aprendo nuovi scenari grazie alla messa a punto di innovative terapie composte da più farmaci che possono essere offerte a un più ampio numero di pazienti. In un prossimo futuro ci si aspetta pertanto di poter usufruire i trattamenti e l'associazione tra cui la combinazione di immunoterapia più chemoterapia che potrà essere somministrata già alla diagnosi della malattia a tutte le persone con la forma cosiddetta non a piccole cellule la più diffusa nel nostro paese. La regione siciliana, l'assessorato salute, è molto attenta ai bisogni dei pazienti affetti da questo tipo di patologia perché innanzitutto sta rilanciando l'attività della rete regionale oncologica, sta procedendo con la definizione di diversi percorsi diagnostico-terapetici assistenziali proprio per dare risposte concrete e tempestive a questo bisogno importante di salute anche alla luce delle nuove terapie recentemente approvate. Anche in questo caso una recente novità dell'assessore ha permesso di ridurre drasticamente i tempi di accesso in Sicilia perché con un recente decreto è stata eliminata la commissione regionale del farmaco e quindi dalla gazzetta di autorizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco nel giro di 8-10 giorni il farmaco è già automaticamente inserito e disponibile sul territorio regionale. La nostra regione è in grado di garantire una concreta presa in carico delle persone con il timore al polmone grazie anche alla riduzione dei tempi di accesso ai farmaci innovativi che possono essere velocemente disponibili sul territorio. E restiamo sempre in tema di sanità ma parlando dell'ospedale Umberto I perché non arrivano sempre brutte notizie dal mondo della sanità. Questa volta un paziente ha deciso di scrivere una lettera di complimenti al nosocomio siracusano. Vediamo perché. Con una lettera indirizzata al direttore generale dell'ASP di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, un paziente che ne ha chiesto la divulgazione autorizzandoci anche a pubblicare il suo nome, esprime parole di stima e gratitudine per l'assistenza ricevuta prima, durante e dopo il ricovero all'ospedale Umberto I di Siracusa, dal personale del 118 e dagli operatori sanitari che lo hanno avuto in cura. Il paziente ha risolto una severa e complicata frattura al femore dell'arto inferiore sinistro, arto già in precedenza compromesso dagli esiti di una poliomelite contratta in età infantile. L'uomo ringrazia tutto il personale sanitario e parasanitario del 118, che sin dal primo momento del trauma è riuscito a contenere e bloccare l'arto interessato. Ringrazia anche il personale del pronto soccorso, che si è adoperato con celerità a prestare i primi accertamenti clinico-strutturali propedeutici al prevedibile necessario intervento chirurgico. Della sala Gessi, che con abilità è riuscito a ridurre la frottura, con successiva applicazione di trazione con netta riduzione della sintomatologia algica. Ringrazia anche l'equipe della sala operatoria ortopedica, che è diretta dal responsabile del reparto, il dottore Corrado Denaro, con la collaborazione del dottore Caruso. Con maestria sono riusciti ad effettuare un non facile intervento di riduzione e sintesi della patita frattura femorale in anestesia spinale, effettuata con perizia dal dottore Nitopi. Occorre inoltre sottolineare il costante ed efficiente controllo ed assistenza post-operatoria effettuata dai sanitari e parasanitari del reparto di ortopedia, sempre molto disponibili e umanamente vicino a tutti i pazienti. L'assistenza è proseguita anche dopo le dimissioni, con la fornitura dei farmaci e con l'attivazione dell'assistenza domiciliare integrata, con l'invio a domicilio di un bravo infermiere, Davide Blanco, per il controllo periodico della ferita post-operatoria, che è guarita perfettamente, e di una fisioterapista che sta contribuendo con professionalità a completare l'itere riabilitativo del caso con ottimi risultati. Dalla lettera di questo paziente si capisce che dal mondo della sanità non arrivano sempre brutte notizie. Bentrovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Ricordiamo oggi il 26 dicembre, quindi Santo Stefano. Pensate che è stato il primo santo che donò la sua vita per Gesù Cristo. Vediamo nel servizio un breve riassunto della storia di Santo Stefano. Sentiamo chi era. Il 26 dicembre, dopo il giorno che ricorda la nascita di Gesù, è dedicato a colui che fu lapidato per Gesù Cristo. Stefano fu il primo a dare la vita e il sangue per Gesù. Ebreo di nascita e convertito alla fede dalla predicazione di San Pietro, mostrò subito un meraviglioso zelo per la gloria di Dio e una grande sapienza nel confutare i giudei, che increduli disprezzavano il Nazareno. Fu eletto dagli apostoli primo dei sette diaconi per provvedere ai bisogni dei primi fedeli, specialmente delle vedove e degli orfani di cui la Chiesa ebbe sempre cura particolare. Santo Stefano era pieno di grazie e di fortezza, animato dallo Spirito Santo, predicava con forza e confermava la predicazione anche con i miracoli. Per questo si attirò l'odio dei giudei, che non potevano soffrire tanto zelo nel resistere alla sua sapienza, operatrice di numerose conversioni. Essi vollero dapprima disputare con Stefano, ma vedendosi vinti dallo Spirito che parlava per bocca di lui, cercarono falsi testimoni per accusarlo di bestemmia contro Mosè e contro Dio. Il Signore però volle manifestare l'innocenza del suo servo, facendo apparire il suo volto bello come quello di un angelo. Dopo la lettura delle accuse, il sommo sacerdote Caifa gli disse di parlare per difendersi ed egli fece la sua apologia rappresentando loro la bontà e la misericordia del Signore verso il popolo ebreo, cominciando da Abramo fino a Davide. Se da una parte mostrò i benefici che il Signore aveva concesso alla nazione dei giudei, dall'altra ricordò pure le ingiurie fatte a Dio dai loro padri. Ma non facendo quelle parole alcuna impressione in cui i cuori induriti, pieni di malizia, mutando d'un tratto tono, Stefano disse «O uomini di dura cervice e incirconcisi di cuore, voi sempre resisterete allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi». Gli uomini, nell'udire queste parole, fremmettero nei loro cuori e digrignarono i denti contro di lui. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissato agli occhi nel cielo, esclamò «Ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo stare alla destra di Dio». Stefano, dopo queste parole, fu successivamente lapidato e nel frattempo pregava dicendo «Signore, Gesù, ricevi il mio Spirito» e ad alta voce continuò a dire «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto ciò, si addormentò nel Signore. Questa la storia che festeggia oggi il primo Santo che diede il proprio sangue per Gesù. Il forte vento e la pioggia non hanno fermato lo spettacolo delle fontane danzanti che si è tenuto ieri sera a Palazzolo. Tante le persone che, sfidandole in temperi, hanno avuto la possibilità di ammirare uno spettacolo di luce e di zampilli d'acqua al ritmo di musica. Anche l'inno di Mamelli è stato preso a prestito come sottofondo musicale per i fantasmagorici giochi d'acqua. Lo spettacolo si è tenuto in piazza del popolo davanti alla chiesa di San Sebastiano e rientra nel fitto programma di iniziative natalizie e programmate dall'amministrazione comunale. Sempre ieri sera altre manifestazioni con due Fiat 500 trasformate in presepi mentre alla chiesa di San Paolo il coro dei bambini dell'asilo e delle suore che hanno allietato i presenti con un'esibizione applaudita. Oggi si entra nel vivo del clima natalizio con una serie di iniziative fra mostre ed eventi che culminano la sera di Natale con l'avvio del presepe vivente al quartiere San Michele tra i più caratteristici e suggestivi di Palazzola Creide uno dei borghi più belli d'Italia. Diversi gli interventi da parte delle forze dell'ordine in città vediamo appunto cosa è accaduto in questi giorni di festa. I carabinieri del comando provinciale di Siracusa nei giorni del Natale stanno impegnando numerose pattughe con l'impiego di militare delle stazioni e delle tenenze per vigilare le aree urbane e cittadine di tutta la provincia. I servizi straordinari di controllo del territorio predisposti in ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica consentono di garantire una maggiore sicurezza in tutti i luoghi dove residenti e turisti stanno godendo nel massimo della serenità delle giornate di festa. Battuglie appiedate, automontate, in abiti civili stanno vigilando con la massima discrezione contribuendo a aumentare notevolmente la percezione del senso di sicurezza. Sono sottoposte a vigilanza aree e luoghi connotati da un significativo afflusso di persone come capolina degli autobus, le stazioni ferroviarie ma anche alberghi e strutture ricettive con particolare attenzione anche a tutte le zone dove sono ubicate chiese, santuari, cimiteri, luoghi simboli della cristianità, banche, esercizi e centri commerciali. Non viene tralasciato nemmeno il servizio per la prevenzione di furti in appartamento, di autovetture, di motocicli, delle truffe, della violenza di genere, dei reati in materia di stupefacenti. Nell'ambito delle circolazioni stradali sono state controllate oltre 300 veicoli e circa 420 persone ed elevate contravenzioni per oltre 19.000 euro. Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza del casco alla guida di moto e scooter da cui ne è derivato il fermo amministrativo per 60 giorni, la decurtazione ai 5 punti patente e la guida in stato di abbrezza. Sono stati segnalati all'autorità amministrativa ai quali assuntori di sostanze stupefacenti 15 persone trovate in possesso di modica quantità fra cocaina, hashish e marijuana per un peso complessivo di circa 15 grammi. I carabinieri della compagnia di Siracusa hanno denunciato 7 persone tra queste due quarantenni disoccupati ritenuti responsabili di furto di cui il primo di genere alimentare in un esercizio commerciale cittadino mentre il secondo di un telefono cellulare in un'abitazione dislocata nella zona costiera siracusana. Un 35enne è stato denunciato siracusano perché sorpreso a seguito di un controllo stradale alla guida della propria autovettura senza aver mai conseguito la patente. Nella zona nord della provincia la compagnia dei carabinieri di Augusta ha deferito 4 persone di cui 3 giovani e 20 anni in quanto a seguito di un controllo alle circolazioni stradali sono stati trovati alla guida delle rispettive autovetture con un tasso alcoolemico superiore a quello previsto dalle norme del codice della strada. A sud della provincia la compagnia dei carabinieri di noto ha controllato tutte le persone sottoposte agli obblighi nell'ambito della repressione e reati sono stati deferiti 6 persone due uomini di 36 e 26 anni poiché a Pachino sono stati sorpresi a trafugare cassette di pomodoro ciliegino appena raccolto da un campo riconducibile in un'azienda agricola con sede legale in provincia di Firenze. Un 26enne netino è stato sorpreso alla guida della propria vettura mentre occultava in tasca dei pantaloni due coltelli a Sarramanico. Denunciata anche una donna a 46 anni perché si poneva alla guida con tasso alcoolemico pari a 2,39 grammi per litro e ancora due uomini per reiterazione della guida senza patente. Analoghi controlli straordinari del territorio saranno svolti anche in prossimità delle giornate di fine anno e del primo gennaio per assicurare un'idonea cornice di sicurezza e prevenire e reprimere reati nel particolare periodo delle festività. Neanche nel giorno di Natale sono state risparmiate le violenze e le aggressioni ai danni delle donne. Due gli episodi avvenuti nel capoluogo in uno è dovuta intervenire la squadra mobile i cui agenti nel pomeriggio della vigilia di Natale hanno eseguito una misura cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari nei confronti di un siracusano di 41 anni. Il provvedimento è stato emesso alla procura di Siracusa e l'uomo è accusato di atti persecutori consumati nei confronti dell'ex compagna. Poco dopo gli agenti delle volanti sono dovuti intervenire per una lita in famiglia e hanno così denunciato un uomo di 49 anni che alla vista dei poliziotti è andato in escandescenza aggredendo una dei componenti della pattuglia. In termini di interventi ancora gli agenti della squadra mobile hanno seguito un ordine di aspirazione di pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla procura generale presso la corte di appello di Catania nei confronti di un siracusano di 61 anni l'uomo deve scontare una pena a residuo di un anno per reati inerenti agli stupefacenti. E ancora il personale delle volanti è intervenuto in una evitazione di proprietà del comune di Siracusa in stato di abbandono perché era avvenuto un incendio le cui cause sono ancora in fase di accertamento sul posto sono intervenute le squadre vigili del fuoco sono quindi indagini in corso per venire a capo della vicenda. Come un regalo di Natale è arrivato il via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto cosiddetto Salva Sicilia per il rientro e il disavanzo della Regione questo consentirà di ripianare i debiti in 10 anni il termine è collegato a un accordo stato-regione contenente specifici impegni di riequilibrio strutturale dalla parte corrente del bilancio in particolare attraverso la riduzione della spesa corrente adesso il governo musumesci ha 90 giorni di tempo per varare le riforme altrimenti il periodo in cui il disavanzo potrà essere spalmato tornerà a 3 anni in pratica la Regione in cambio della spalmatura del disavanzo in 10 anni concorderà con Roma il piano di riforme per ridurre la spesa è previsto si legge in una nota di Palazzo Chigi che il beneficio del maggiore tempo di risanamento perde efficacia laddove l'accordo non sia definito entro 90 giorni dall'entrata in vigora del decreto attuativo lo schema non comporta nuovi o maggiori oneri neppure in termini di minori entrate a carico del bilancio dello Stato sul bilancio della Regione il ripiano del disavanzo è sostenibile finanziariamente in quanto trova copertura nella parte corrente del bilancio attraverso la riduzione delle spese correnti o l'incremento delle risorse nella medesima parte corrente secondo la programmazione finanziaria annuale pluriennale il ripiano risulta sostenibile anche tenendo conto della recupera delle altre quote di disavanzo già imputate alla gestione corrente l'intesa con il governo Conte dichiarato il governatore Musumeci ci consente di proseguire nell'azione di risanamento avviata già due anni fa e di contenimento della spesa tanto che non abbiamo contratto alcun debito sin dal momento dell'insediamento anzi abbiamo ridotto l'indebitamento di ben 700 milioni di euro rispetto agli 8 miliardi che abbiamo trovato eviteremo così di effettuare tagli pesanti che graverebbero sulle fasce più deboli della popolazione l'assessore regionale dell'economia Gaetano Armao ha sottolineato che entro 90 giorni sarà definito con lo Stato un accordo che contenga le prescrizioni richieste dal governo nazionale ma soprattutto chiuda definitivamente le intese sull'autonomia finanziaria regionale questo servizio chiude il nostro telegiornale grazie per l'attenzione vi auguriamo ancora un buon Santo Stefano arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.